Andiamo a scoprire chi è il vincitore! Ci siamo, ci siamo, ci siamo, grande Bruno! Ha vinto per un punto, proprio per parlare di equilibri, Martina Giannola! Bene! Senti, eccola qua! Tanti complimenti! Noi ci rivediamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete, ricordate! Sempre, per sempre, Forever che cosa? Che forza la musica! Sigla, Bruno Viniti!